musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi parliamo di aggiornamenti segreti della patch 7.2 di fortnite quella che abbiamo visto con l'update di ieri ragazzi ci sono tantissime cose che forse vi sono un attimo sfuggite alcune sicuramente le avrete già viste altre ve le voglio dire io non parlerò ragazzi in questo video di cose banali ma andremo un pochettino più in profondità vi ricordo però prima ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento nessuna notifica ma prima ragazzi e lo sapete vi faccio la domanda ragazzi domanda come ogni video mi raccomando un bel commento qui sotto in modo che anche io lo posso leggere e sentire la vostra opinione la domanda di oggi è semplicissima ragazzi quale preferisci tra le due siti il picco polare oppure burgo allegro a me personalmente ragazzi piace di più il picco polare tanta tanta roba sarà che sono un amante dei castelli della roba un po fantasy medievale roba così a me piace di più fatemi sapere qua sotto nei commenti ma quindi banda le ciance ciancio alle bande o è il contrario andiamo subito ragazzi a parlare no non è il 2 ovviamente è il numero 1 andiamo subito ragazzi a parlare del primo aggiornamento che si riferisce ragazzi alle zipline lo avrete sicuramente già sentito ma forse non sapete ragazzi che c'è un bel update per quello che riguarda le nostre zipline prima ragazzi una volta che ci si saltava sopra per cambiare la direzione di movimento era obbligatorio saltare adesso ragazzi basta solo girarci e come vedete automaticamente la zipline va dal verso in cui siamo rivolti una modifica veramente molto molto interessante che soprattutto migliora a parer mio la qualità del gameplay con l'utilizzo delle zipline ma non c'è solo questa modifica ce ne sono altre due ragazzi la prima è relativa al all'effetto che la zipline fa quando rompiamo i muri ragazzi quindi se c'è per caso davanti a noi un una costruzione un effetto di esplosione colore blu astro circa viene prodotto ed è molto carino da vedere la seconda cosa ragazzi invece il movimento di accelerazione da adesso quando saliamo sulle zipline non saremo subito sparati a cannone verso l'avanti ma ci saranno pochi secondi in cui la zipline partirà ed andrà ovviamente nella direzione desiderata ma andiamo avanti ragazzi andiamo subito al secondo cambiamento alla seconda modifica che riguarda invece questa volta i cecchini ragazzi un'altra modifica davvero interessantissima che coinvolge il fucile da caccia il bolt action e ovviamente il fucile silenziato che cosa è stato cambiato da adesso ragazzi tutti i cecchini avranno la traiettoria esattamente identica al bolt e al barrett questo vuol dire che il proiettile andrà proprio dritto ragazzi diciamo che dovete dobbiamo piano piano dimenticarci della cadenza del proiettile adesso praticamente anche a lunga distanza il proiettile andrà quasi perfettamente in linea retta ed è veramente una modifica interessantissima perché ci permette di imparare un pochettino meglio a prendere le distanze e ad utilizzare i cecchini oltre che avere una precisione sicuramente migliore un bellissimo update andiamo avanti ragazzi con la modifica numero 3 voglio ovviamente ragazzi parlarvi della più grande modifica di questa patch note sto parlando ovviamente della sfera che c'è sopra picco polare ragazzi una sfera che vi parlerò due secondi dedicheremo ovviamente un video appena avremo notizie un pochettino più interessanti ma ragazzi è innegabile la figata che vediamo è che se ci avviciniamo alla sfera guardate un po' che cavolo succede allo schermo più ci avviciniamo e più lo schermo diventa completamente ghiacciato fino addirittura a togliere completamente la visuale di quello che stiamo guardando questa sfera ragazzi sarà sicuramente parte integrante della season 7 si parla addirittura di un evento dedicato che non ancora sappiamo ma ovviamente ragazzi non appena ci saranno degli sviluppi non preoccupatevi che sarete sicuramente i primi a saperlo tanta tanta roba questa sfera ragazzi andiamo avanti molto velocemente ragazzi e parliamo dell'aggiornamento numero 4 un aggiornamento che è passato inosservato ma che secondo me è davvero fondamentale e cambia completamente il gameplay del nostro fortnite battle royal sto parlando ragazzi di modifiche agli shieldini si ragazzi vi faccio vedere in questo breve video come vedete qui abbiamo uno stack da tre di shieldini e qua ne abbiamo invece uno da sei se andiamo a recuperare ragazzi lo stack da sei e andiamo a mettere l'inventario e prendiamo quello da tre ragazzi come vedete non è più possibile tenere dieci shieldini come lo è stato fino a due giorni fa adesso ragazzi lo stack massimo per gli shieldini è stato ridotto a sei ed è una cosa veramente molto molto importante che sicuramente modificherà tantissimo anche le meccaniche di gioco in quanto dobbiamo assolutamente ricordarci di dosare e di stare molto attenti appunto perché non ne abbiamo più dieci ma ne abbiamo solamente sei tanta tanta roba anche per questo update silenzioso andiamo avanti ragazzi con la modifica numero 5 una modifica interessantissima che coinvolge ragazzi invece una delle armi un po più un po più strane di fortnite diciamo ragazzi sto parlando della minigun sto parlando minigun che ha due modifiche la prima ragazzi è il suono molto figo sono molto molto più realistico e la seconda come state vedendo ragazzi è il surriscaldamento dopo sei secondi con cui spariamo con la minigun ragazzi non è più possibile sparare ci servono almeno due secondi e otto tre secondi di raffreddamento dell'arma in modo che possa intanto lui distrugge tutto di prepotenza due o tre secondi di raffreddamento dell'arma in modo che possa appunto raffreddarsi e poter sparare nuovamente in poche parole ragazzi abbiamo una piccola torretta portatile una grande modifica per la minigun ma andiamo avanti ragazzi nella modifica numero 6 un altro grandissimo cambiamento per quello che riguarda la mappa di fortnite ovviamente sto parlando dell'edificio di pinnacoli l'edificio più controverso di fortnite battle royale perché dico che è più controverso perché nel corso delle season abbiamo visto come ci siano stati eventi che hanno influenzato proprio questo edificio che con la patch 7.2 si mostra ragazzi è quasi completato perlomeno l'esterno è stato completato non chiedetemi perché va a scatti perché non ne ho assolutamente idea ma tanto ci interessa solamente vederlo l'interno è ancora da fare ci sono dentro 4 o 5 chest c'è anche il terrazzo ed è ragazzi davvero interessante come questo parte che c'è un chest attaccato al muro che non si sa bene da che parte si è attaccato ma è molto interessante come epic games ragazzi decida ogni volta di modificare questo questo edificio di pinnacoli vuoi la prima volta perché lo distrugge il cubo vuoi la seconda volta perché ci cade sul meteorite insomma sicuramente ragazzi non sarà finita qua andiamo avanti ragazzi con l'aggiornamento invece numero 7 ve ne avevo già anticipato un pochettino il meccanismo parliamo delle trappole ragazzi adesso è molto più facile trovare sia nell'utaterra che nel nei lama sia nei chest le torrette i launchpad i falò e anche le trappole in realtà ho detto una cavolata le torrette le hanno diminuite per quello che riguarda ragazzi il campfire quindi il falò l'hanno aumentato da 0,26 per cento a 0,73 per cento nel lutaterra mentre nel lama l'hanno aumentato da 6,63 per cento a 15,5 quindi se troviamo un lama la maggior parte delle volte troveremo sicuramente dentro anche un falò avanti ancora per il launchpad da 13 e 25 per cento l'hanno aumentato a 20 e 77 mentre hanno diminuito la torretta da 0,8 per cento a 0,5 e nel lama da 20 a 20 per cento e 53 a 12,2 quindi torrette molto più difficili da trovare andiamo ragazzi velocissimamente verso l'ultima modifica di cui vi avevo già parlato ma che vale la pena perderci due secondi sto parlando ovviamente ragazzi del sistema di costruzione dei muri come sappiamo da adesso ragazzi quando costruiamo un muro se siamo in una posizione un po' scomoda come quella che può essere vicino al fiume il muro viene costruito automaticamente con la parte in basso al costo di soli 10 pezzi di legna ragazzi di mattone di metallo insomma del materiale che utilizzate beh ragazzi questi erano gli otto cambiamenti che sono arrivati importanti nella patch 7.2 spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 ciao